Ciao Olivio e buonasera ai nostri telespettatori. Prima puntata di Decoder, questa sera ripartiamo e ripartiamo da un tema che sicuramente farà discutere parecchio nelle prossime settimane. Infatti entro il 31 dicembre bisogna decidere con quali modalità affidare la gestione del servizio idrico integrato nella nostra provincia per i prossimi 25 anni. Ci sono diverse opzioni, un'opzione è quella della gara, chi vince la gara gestisce il servizio, ma c'è anche un movimento rappresentato dal Comitato Acqua Bene Comune che dice che non ci deve essere una gara ma il servizio deve essere affidato ad una società interamente pubblica, una società partecipata, controllata al 100% dai comuni. Il costo dell'operazione che secondo la maggioranza dei sindaci reggiani è insostenibile per i comuni. È così? Non è così? Ne parliamo questa sera con uno degli esponenti del Comitato Acqua Bene Comune, Cesare Schieppati. L'appuntamento con Decoder alle 20.45. Ti restituisco la linea. Buonasera e benvenuti a Decoder, prima puntata di questa stagione, di questa seconda stagione del nostro settimanale. Vi presento subito il nostro ospite Cesare Schieppati del Comitato Acqua Bene Comune. Schieppati ha un record per adesso, cioè è l'unica persona che è stata ospite già due volte del nostro programma. E c'è una motivazione, riptagione scorsa, il tema della gestione del servizio idrico integrato nella nostra provincia. Un tema di cui noi ci eravamo occupati qui a Decoder nel febbraio scorso, di cui si è discusso molto, soprattutto nel corso della primavera e dell'estate, e che ora è arrivato a un punto che cercheremo di sviscerare, un punto cruciale. Prima della sigla le chiedo soltanto questo, Schieppati. Rispetto a otto mesi fa, guardando al vostro obiettivo, che è quello dell'affidamento della gestione ad un servizio, ad una società interamente pubblica, è un po' più ottimista, un po' più pessimista? Noi continuiamo ad essere ottimisti, naturalmente, ma obiettivamente siamo messi molto peggio. Siamo messi molto peggio perché c'è un problema, come poi avremo modo di vedere, di mancanza di trasparenza molto serio, che si porta dietro a un problema di mancanza di democrazia, secondo noi. e quindi credo di poter dire che è più complicata, oggi la situazione è più complicata e c'è meno rispetto della volontà dei cittadini di quanto ce n'era otto mesi fa. Bene, allora, sigla e poi approfondiamo il tema insieme a Cesare Schieppati. Grazie a tutti. Allora, parliamo di acqua, di gestione del servizio idrico integrato e io direi di partire dalla novità più recente, Schieppati, e cioè la decisione di Atersir, che è questa agenzia che mette insieme gli enti locali, di fissare al 31 dicembre 2015 la data ultima per la scelta della modalità di affidamento del servizio idrico integrato. Di modalità ce ne possono essere diverse, poi cercheremo di capire anche pro e contro delle diverse scelte. Comunque la sostanza è che c'è un po' più tempo rispetto a quanto si era pensato, perché si era parlato, e lo avevamo fatto anche noi qui a Decoder in febbraio, si era parlato del 30 settembre. Il fatto di avere qualche mese in più dà delle possibilità maggiori di approfondimento dei temi? Dà delle possibilità maggiori se si volessero approfondire i temi. Il problema è che, come dicevo prima, c'è un problema di mancanza di trasparenza e secondo noi di volontà di approfondire i temi ce n'è molto poca. Colgo l'occasione per dire che vi ringrazio dell'invito in questa trasmissione, ma lei mi darà atto che noi abbiamo chiesto a coloro i quali si oppongono alla ripubblicizzazione un confronto, anche in questa sede, l'abbiamo chiesto ripetutamente anche prima delle vacanze e ci è sempre stato negato. In questa, come in altre sedi, moderato da persone indipendenti e autorevoli come lei, ciò nonostante il confronto è sempre stato negato. Adesso noi speriamo che il confronto si riapra e che ci sia un po' di informazione sulle intenzioni reali dei nostri amministratori. Finora questo è mancato nella maniera più assoluta, cioè dal mese di giugno, quando c'è stato il diktat, perché di questo si tratta, della direzione del PD, per cui sul processo di ripubblicizzazione tutto si sarebbe dovuto fermare e si sarebbe dovuto cambiare punto di vista, da allora non è mai stato chiarito quale fosse la diversa alternativa. Ecco, adesso proviamo a vedere quali possono essere... Abbiamo tre mesi in più, ma dobbiamo utilizzarli nella maniera più corretta. Voi naturalmente avete un'idea in mente che ci ha spiegato, ma su cui torniamo, che è quella appunto di affidare la gestione del servizio idrico integrato su base provinciale ad una società interamente controllata e posseduta dai comuni della nostra provincia. Alla base di questa opzione, oltre che così un'ispirazione ideale, c'è un progetto concreto che è questo, un progetto che è stato commissionato ad una società che si chiama Agenia, da Agac Infrastrutture, che è la società di proprietà dei comuni, proprietaria delle reti idriche del nostro territorio. E questo progetto, in sostanza, disegna un percorso di gestione pubblica attraverso la creazione di una società di gestione pubblica del servizio idrico. Su questo arriviamo, su questo progetto arriviamo, ma prima vorrei parlare dell'altra opzione in campo, perché poi c'è una terza via che resta piuttosto indistinta. L'altra opzione in campo è quella di indire una gara e di affidare la gestione del servizio a chi vince. È quello che si fa in molti settori, soprattutto nei servizi pubblici. Voi questa prospettiva la vedete col fumo negli occhi. È la prospettiva della privatizzazione. Ecco, perché non vi piace l'ipotesi di una gara? Non ci piace l'ipotesi della gara, perché la gara è appunto la forma che si porta dietro la privatizzazione della gestione del servizio. Allora, siccome l'acqua per noi non è una merce, ma è un diritto, la gestione del servizio non si vede perché non debba essere in capo alle collettività che la gestiscono nell'interesse dei cittadini e non di un'azienda quotata in borsa. Questa in estrema sintesi del concetto. Quello che peraltro noi chiediamo, cioè la ripubblicizzazione del servizio tirandolo fuori da IREN, è una cosa che si fa nel 60% del territorio italiano. Quindi non stiamo chiedendo una cosa particolarmente stravagante o originale. Stiamo chiedendo di fare quello che si fa nel 60% del territorio italiano. In alcuni casi, voglio essere estremamente onesto, male, ma nella maggioranza dei casi, bene. In alcuni casi, molto bene. E noi dovremmo prendere quegli esempi in cui la gestione pubblica è fatta in maniera ottimale. Si potrebbe dire, ma mi correga se sbaglio, che sarebbe una sorta di ritorno al passato, perché per tanti anni nel nostro territorio il servizio idrico è stato gestito da Agac, che era un consorzio che era interamente controllato dai comuni. O sono due cose diverse? No, per certi aspetti è così, effettivamente. Quello che di positivo c'è oggi nel servizio è in larga misura eredità della gestione di Agac. Quindi noi non vediamo perché quell'eredità non debba essere rivalutata con beneficio per tutti, per i cittadini, per gli utenti, per i lavoratori del servizio, per tutti avrebbero da trarre beneficio da questa opzione. Ecco, ma oggi la qualità del servizio offerto da IREN nell'ambito dell'acqua non è buona? Oggi la qualità del servizio è buona, nessuno l'ha mai negato, ma questo non significa che avendo l'opportunità, perché è scaduta la concessione a IREN, non si possa, perché la collettività reggiana non possa riprendersi in mano questo servizio. Ripeto, questa cosa si fa in larga parte del territorio italiano. Non si vede perché non si debba fare a Reggio Emilia. Il modello IREN, al di là dell'acqua, ha mostrato moltissimi limiti. I nostri amministratori più onesti lo riconoscono oramai, lo riconoscono apertamente nelle riunioni pubbliche. Dicono che se potessero tornare indietro non rifarebbero quello che hanno fatto, cioè di portare Agac a quotarsi in borsa e poi a fondersi fino ad arrivare ad IREN. Quindi, siccome c'è offerta questa possibilità dalla scadenza della concessione a IREN, non vediamo perché non debba essere colta nell'interesse dei cittadini. Proviamo a spiegare cosa ci guadagnerebbero, secondo voi, gli utenti, i cittadini, se la gestione fosse affidata ad una società interamente pubblica. Cioè, al di là del discorso di riappropriarsi dell'acqua, come diceva lei, che è certamente importante, ma magari può sembrare astratto a tanti, concretamente quali sarebbero i vantaggi? Allora, prendo per buono quello che la direzione del PD ha scritto ad aprile del 2014, quindi non un secolo fa, ad aprile del 2014, rispondendo a una lettera aperta che indirizzavamo insieme a 37 associazioni del territorio reggiano, sindacati, comitati, associazioni che rappresentano decine di migliaia di cittadini, scrivevamo una lettera aperta ai sindaci, in cui dicevamo mettiamo in sicurezza la ripubblicizzazione, perché in quel momento sembrava che la ripubblicizzazione fosse cosa fatta, perché i sindaci l'avevano già deliberata in più occasioni. Allora, in risposta a quella nostra lettera aperta ci risponde il PD, perché questa è una caratteristica del nostro territorio, noi scriviamo, 37 associazioni scrivono ai sindaci e i sindaci non rispondono, risponde il PD. Cosa curiosa, comunque ad aprile del 2014 il PD risponde e dà risposta alle domande che adesso mi ha fatto, cioè dice la futura gestione pubblica, perché allora volevano ancora fare la gestione pubblica. Quindi siamo quando? Aprile 2014. Ok, quindi... La nostra lettera risaliva a... Un anno e mezzo fa. Novembre 2013. La segreteria del PD diceva dovranno essere garantiti dal nuovo soggetto gestore pubblico tre principi fondamentali. Uno, la totale proprietà pubblica. Due, il reinvestimento degli utili. Tre, la partecipazione dei cittadini negli organi di controllo. Allora, questi tre principi assolutamente condivisibili non possono essere portati avanti in una gestione come quella di IREN, perché uno, non è totale proprietà pubblica. Due, IREN non ha nessuna intenzione di reinvestire gli utili perché li deve distribuire ai propri soci che siano azionisti delle isole Caiman o il sindaco di Rio Saliceto, per dire il primo che mi viene in mente. Ma di sicuro non ha intenzione di reinvestirli per ridurre la tariffa o diminuire l'indebitamento. E tre, figuriamoci, la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori negli organi di controllo mi dica lei se è possibile in una struttura come quella di IREN che è tutto tranne che trasparente. Tutto. Quindi noi per questi motivi volevamo e vogliamo fare la repubblicizzazione dell'acqua. Allora, il punto su cui ci si va a scontrare è proprio quello dei numeri che sono contenuti in questo piano di cui parlavamo e che adesso cerchiamo di approfondire. Molti sindaci reggiani dicono oggi, naturalmente sono cose diverse rispetto a quelle che abbiamo ascoltato pochi istanti fa, che il progetto di ripubblicizzazione è condivisibile negli obiettivi ma in sostanza è insostenibile per i comuni dal punto di vista economico. Io dico alcune cifre così capiamo di che cosa stiamo parlando cifre che ho preso da questo piano. La ripubblicizzazione richiede un fabbisogno finanziario di 127 milioni di euro costituito da 102 milioni di indennizzo a IREN e da circa 25 milioni sostanzialmente per finanziare il primo anno di attività della nuova società pubblica. L'avvio della nuova società. Poi prevede che ogni anno questa società sostenga circa 20 milioni a volte leggermente di più a volte poco meno 20 milioni di euro di investimenti sulla rete idrica e che vengano assunti i dipendenti che devono far funzionare questa società che devono aggiustare i guasti quando ci sono Quelli attualmente in carico a IREN che sono circa 310 dipendenti di IREN attualmente. Dipendenti che oggi costano 18 milioni di euro all'anno. Di fronte a cifre del genere lei si meraviglia se i sindaci ci vanno con i piedi di piombo? No, io mi meraviglio mi meraviglio e molto che qualcuno in malafede stravolga questi numeri e ne dia un'eccezione che è completamente mistificatoria. Allora, mi spieghi. Completamente mistificatoria. Allora, bisogna dire una cosa che abbiamo già detto la volta scorsa ma che va ulteriormente ribadita perché se no il cittadino qualsiasi non capisce la questione. Allora, due cose anzi. La prima è che gli investimenti in questo settore sono pluridecennali quindi chi investe e deve investire per il servizio idrico integrato rientrerà dagli investimenti in 10, 20, 30 addirittura 40 anni. Quindi, se è vero questo nessuno fa degli investimenti tirando fuori i soldi dal proprio cassetto. Questo è anche il motivo scusi, l'inciso per cui bisogna indennizzare IREN con quei 102 milioni di euro perché va indennizzata degli investimenti che ha fatto IREN stessa esattamente come dovrebbe fare il nuovo gestore ha finanziato questi investimenti indebitandosi con le banche ma così fanno tutti pubblici e privati grandi e piccoli chiaro? Questa è fondamentale prima cosa da capire. Seconda cosa il metodo tariffario è tale per cui la tariffa cioè la nostra bolletta copre interamente tutti i costi della gestione gestione che per legge è tenuta ad essere efficace ed efficiente cioè non possono fare delle gestioni con la brodo però fatta questa premessa la nostra tariffa copre interamente i costi di gestione. Allora, se è vero questo non si può raccontare che i 200 o addirittura 220 milioni di euro sarebbero aggiuntivi rispetto all'indebitamento esistente non si può raccontare questa cosa se non dicendo appunto una cosa assolutamente mistificatoria cioè l'unica componente aggiuntiva di costo di investimento sono quei 25 milioni di euro che servono per avviare la nuova società pubblica poi vedremo se me lo farà dire a fronte di quali benefici nel corso degli anni ma tutta quell'altra svagonata di milioni di indebitamento sono già esistenti e sono in carico ad Agac Infrastrutture che ha fatto degli investimenti addirittura dieci e più anni fa e per il motivo che ho detto prima rientrerà tra dieci vent'anni e quindi è un indebitamento fatto dal quale si rientrerà con la nostra tariffa con la nostra tariffa la seconda componente i 100 erotti milioni 102 milioni di euro è un indebitamento che ha già fatto IREN esattamente per lo stesso motivo cioè per finanziare gli investimenti in parte IREN è già rientrata una piccola parte in parte sarebbe rientrata nel corso degli anni futuri attraverso lo ripeto ancora una volta la nostra tariffa quindi noi già oggi paghiamo per rientrare da questo indebitamento che è obbligatorio cioè o non fai gli investimenti oppure se li fai devi indebitarti e di conseguenza rientrare nel tempo con la tariffa quindi chi dice che la ripubblicizzazione costerebbe 200 milioni di euro indebitamento insostenibile per i comuni e poi vediamo anche al ruolo specifico dei comuni dice una pura menzogna per il semplice fatto che questo indebitamento è già esistente e lo paghiamo noi con la nostra tariffa quindi non vedo perché un cittadino reggiano dovrebbe fare differenza tra pagare attraverso la propria tariffa l'indebitamento che ha fatto IREN o quello che dovrebbe fare il nuovo gestore pubblico già lo paga con la tariffa e continuerebbe a pagarlo domani in misura assolutamente invariata la interrompo per un'altra obiezione che si fa spesso lo studio stima che il finanziamento bancario di 127 milioni di euro si possa ottenere con un tasso medio del 5% e possa essere rimborsato nell'arco di 16 anni nell'arco di questi 16 anni quindi 5% di 127 milioni di euro questa società dovrebbe pagare 102 milioni di euro di interessi passivi allora l'obiezione che viene fatta è ma perché dobbiamo ma lei ha capito quello che io ho appena finito sì sì no io ho capito cioè quegli stessi chiedo a lei quello stesso indebitamento lo stiamo già pagando l'onere di quell'indebitamento lo stiamo pagando oggi perché sono investimenti che hanno fatto in passato Agac e Iren e che in futuro farà il gestore pubblico e quindi dal punto di vista dell'utente non cambia assolutamente nulla bene il vostro modello è o uno dei modelli è Iris Acqua di Gorizia cosa insegna l'esperienza di questa società? L'esperienza di Iris Acqua insegna moltissime cose basterebbe solo volerle esaminare con attenzione con l'attenzione dovuta allora innanzitutto anche quello è un caso di scorporo da una multi utility cioè anche lì c'era a Gorizia una multi utility che gestiva diversi servizi acqua, elettricità, gas hanno tirato fuori prima ancora del referendum la gestione dell'acqua e ne hanno fatta una gestione interamente pubblica ok? Quindi uno scorporo esattamente come quello che vogliamo fare qui la gestione di Iris Acqua così si chiama la società pubblica è una gestione di quelle che dicevo prima assolutamente pubbliche assolutamente esemplari esemplari perché fanno gli investimenti ne fanno più di prima la tariffa è aumentata perché anche qui da noi continuerebbe inevitabilmente ad aumentare perché il sistema tariffario stesso e la necessità di fare gli investimenti che fa sì che aumenta ma aumenta meno di quanto aumentava prima con il gestore privato questo è importantissimo se no ci giochiamo ancora sopra cioè aumenterà meno la tariffa rispetto a quanto è aumentata finora questo deve essere assolutamente chiaro il consiglio di amministrazione di Irene mi ascolti bene di Iris Acqua di Gorizia costa 25 mila euro allora lei sa quanto costa il consiglio di amministrazione di Irene a noi utenti perché lo paghiamo noi immagino molto di più stiamo anche parlando di due cose diverse stiamo parlando di due cose diverse ma 25 mila euro all'anno di costo di un consiglio di amministrazione comparato con quello solo all'amministratore delegato uscente lei sa che sono stati dati due milioni di euro però non sono i costi del consiglio di amministrazione cioè questa società di cui stiamo parlando su Reggio avrebbe credo 70-80 milioni di euro all'anno di costi che fanno più investimenti di prima fanno più investimenti di prima la tariffa ha continuato a crescere ma meno di prima e comunque è decisamente più bassa della tariffa reggiana decisamente più bassa della tariffa reggiana c'è una forma anche di partecipazione quella partecipazione di cui parlava prima il PD dei cittadini agli organismi gestionali e di controllo l'esempio di Irisacqua è un esempio assolutamente fondamentale e un modello da prendere la ringrazio di averlo citato Lei quindi come se lo spiega questo atteggiamento della maggior parte? Ah mi perlò un'altra cosa Irisacqua naturalmente si è indebitata nei confronti delle banche come qualsiasi gestore dell'acqua Lei quindi come se lo spiega le banche non hanno chiesto di Irisacqua ai comuni che sono soci di Irisacqua una solo euro di garanzia quindi questa operazione costata ai comuni del Goriziano così come costerebbe ai nostri comuni esattamente zero zero le banche alla luce del metodo tariffare non hanno chiesto un euro di garanzia come se lo spiega l'atteggiamento della maggioranza dei sindaci reggiani che dicono non ce la sentiamo di mettere a rischio i nostri comuni in un'operazione di cui condividiamo gli obiettivi ma che pensiamo non possa essere sostenuta economicamente perché secondo lei c'è questo atteggiamento? non sono tutti i sindaci reggiani adesso la maggioranza non sono tutti vale la pena di ricordarlo ci sono comuni importanti anche come Cavriago Casal Grande Novellara Quattro Castella Albinea che hanno votato delle delibere in cui dicono in maniera molto chiara andiamo avanti con la ripubblicizzazione perché non vediamo nessun elemento reale e fondato per rimettere in discussione quel percorso perché molti altri sindaci la pensano diversamente ripeto non la maggioranza la pensano diversamente secondo noi perché c'è un problema di informazione un problema serio di informazione da parte loro cioè non sono informati da parte da parte di chi li dovrebbe informare allora esiste uno spazio che è il forum provinciale dell'acqua che è stato voluto dai sindaci stessi non da tutino dai sindaci tutti l'hanno deliberato tre anni fa che avrebbe dovuto essere ed è stato fino a pochi mesi fa lo spazio corretto in cui i sindaci dovevano venire a ragionare informarsi confrontarsi su questa questione da mesi il forum provinciale per l'acqua è stato affogato cioè non si riunisce più questo dibattito dicevo prima c'è un problema di trasparenza avviene tutto nelle segrete stanze e noi cittadini e anche direi amministratori non sappiamo più in che direzione ci stiamo muovendo beh devo dire che se io leggo questo dopo leggere anche un sindaco o un consigliere comunale farsi un'opinione quindi non so se sia o non l'hanno letto oppure hanno maturato un'opinione diversa però dire che non hanno gli strumenti per valutare mi sembra poco non è stato fatto il dibattito che si sarebbe dovuto le dico solo una cosa chi dice come sindaco vecchi che ci sono delle forti criticità in quello studio dovrebbe quantomeno avere l'onestà intellettuale di metterle per iscritto cioè elencarle quali sono queste criticità non sparare delle cannonate propagandistiche cosa che invece è stata fatta questo invece di metterle in fila le criticità non è mai stato fatto le cannonate propagandistiche ne abbiamo sentite moltissime qui in questa sede è venuto Costa segretario provinciale del PD a dire c'è la registrazione ahimè mi spiace per lui che facendo la ripubblicizzazione i comuni del Reggiano avrebbero dovuto accantonare più di 100 milioni di euro è una cosa che non sta né in cielo né in terra quindi Costa nel momento in cui è venuto qui a dirla o non sapeva di che cosa parlava o era in malafede mi spiace doverlo dire negli altri territori in cui opera IREN pensiamo a quelli vicini come Piacenza come Parma ci si sta muovendo nella stessa direzione che voi auspicate a Piacenza c'è stata una discussione per certi aspetti assolutamente analoga alla nostra sembrava che si andasse nella direzione della ripubblicizzazione e poi si è preso un'altra piega direi che in coda a quello che è venuto a Piacenza anche il PD Reggiano ha cambiato idea ma questo non vuol dire che non si possa fare si può fare a Piacenza esattamente come si può fare a Reggio Emilia così come si fa ripeto nel 60% del territorio italiano si è parlato quest'estate in particolare la proposta è arrivata dal vice sindaco Matteo Sassi di un piano B cioè il discorso da parte di Sassi era mi interessa arrivare all'obiettivo della ripubblicizzazione non mi convince questo studio perché anche Sassi ha detto che ritiene che sia difficilmente realizzabile proviamo a studiare una formula diversa rispetto a quella contenuta in questo studio mi è sembrata la vostra una reazione molto rigida cioè c'è solo questa strada c'è solo questa strada secondo la normativa europea le strade sono tre sono assolutamente equivalenti non ce n'è una che è privilegiata rispetto a un'altra la gara e la gestione pubblica cosiddetta in house in casa i comuni se lo fanno in casa da loro e una soluzione intermedia che è la società mista ok allora noi ancora non sappiamo concretamente quale sia il cosiddetto piano B si dice addirittura che ce ne siano due diversi di piani B è stato chiesto ad Atersir che è l'organismo regionale di controllo di cui parlavale prima di fare uno studio ma nessuno ci è venuto a dire ma non noi come comitato ai cittadini reggiani ha spiegato quali sono i contorni di questo studio cioè che cosa è stato chiesto di studiare ad Atersir allora se ad Atersir si chiede di studiare qualcosa di simile a quello che Atersir aveva proposto a Piacenza per rispondere alla sua domanda a noi non piace assolutamente basti dire che la società mista sarebbe quella che è stata proposta a Piacenza 60% privata 40% pubblica perché dovrebbe piacerci non piaceva nemmeno al PD fino ad aprile dello scorso anno anzi fino a giugno di quest'anno quando hanno immesso il diktat che non si può più fare la ripubblicizzazione perché loro stessi scrivevano totale proprietà pubblica senti siamo in chiusura cosa si aspetta che succeda nei prossimi giorni nelle prossime settimane nell'arco di tempo che ci si impara dal 31 dicembre cosa si aspetta lei nel senso di cosa si aspetta il comitato acqua bene comune i cittadini favorevoli alla ripubblicizzazione che sono il 70% di cittadini reggiani che sono andati a votare per il referendum cioè questa è stata la provincia in Italia che ha votato di più per il referendum 70% di votanti di cui 95% sì quindi sì all'acqua pubblica noi ci aspettiamo che i cittadini i sindaci reggiani mantengano i loro impegni e se per ipotesi hanno delle idee diverse rispetto a quelle che avevano fino a giugno di quest'anno ma ripeto che alcuni sindaci non ce l'hanno affatto idee diverse ci spieghino quale sono in maniera trasparente che ci sia un dibattito lei prima diceva ci sono davanti a noi ancora tre mesi che oramai non sono nemmeno più tre ok poi c'è Natale figuriamoci diciamo che sono due mesi sostanzialmente perché mai in due mesi dovrebbe uscire una proposta condivisa e approfondita seria come è stata quella che ha richiesto due anni e mezzo per poter essere elaborata quella proposta è una proposta che dimostra in maniera incontrovertibile incontrovertibile chiunque la legga lei diceva giustamente i sindaci l'avranno letta non lo so lei lo sa i sindaci se tutti i sindaci o gli assessori o i consiglieri comunali l'hanno letta noi ce lo auguriamo e ci auguriamo che anche i cittadini vadano a leggere quello studio di fattività o almeno la sua sintesi che si trova sul sito della provincia quello studio dimostra in maniera inequivocabile che la ripubblicizzazione non solo si può fare ma sarebbe un ottimo affare per la comunità leggiana bene siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata di Decoder ringrazio Cesare Schieppati del comitato Acqua Bene Comune ringrazio voi che ci avete seguito se volete ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora grazie buona serata grazie a voi grazie a tutti